La violina, si, no che le echa, va primero, primero la violina, poi le tira lo che pensa. Allora, si no, si no, si no, si no, si no se movio bien, entonces, dice, oh, por eso, no funciono. Sì. A modo da che la tortilla se le ponga negra per che la gente vea Come puoi vedere? E' un giodine E' un giodine E' un giodine, come la sal che noi comiamo Che si arriva al nostro organismo E come puoi vedere questa tortilla Come puoi vedere? Significa parte del corpo Il nostro corpo